Bim Bim Bici 2013, un percorso che coinvolge tre comuni. Raccontiamo come si svolgerà la giornata di domenica per tutti i bambini di Poggio Rusco, Villa Pome e San Giovanni del Dosso. Questa manifestazione comincerà da Poggio, da Poggio Rusco, alle ore 9. Avremo il primo gruppo di mini ciclisti che partiranno da Poggio e arriveranno a San Giovanni. A San Giovanni vi sarà un primo ristoro e da lì insieme i due gruppi San Giovanni e Poggio Rusco partiranno insieme in direzione di Villa Poma dove anche a Villa Poma vi sarà un altro ristoro. In questo ristoro si staranno un po' lì in compagnia e poi tutti insieme i tre comuni, ovvero San Giovanni, Villa Poma e Poggio Rusco, andranno tutti insieme a Poggio Rusco dove si farà un breve giro per le vie del paese di Poggio Rusco e poi ci sarà il rinfresco più o meno intorno all'orario di mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Assessore, la manifestazione promuove anche la mobilità sostenibile e un approccio al divertimento e al movimento più ecologico e rispettoso dell'ambiente. Sì esatto, abbiamo voluto con questa manifestazione innanzitutto, come dicevano i miei colleghi, creare un evento dove i tre comuni partecipassero insieme. Volevamo regalare una mattinata, una domenica di festa dove appunto si prestasse attenzione anche all'uso di mezzi diversi dall'automobile, appunto della bicicletta, dove appunto tutti insieme possiamo passare una mattinata di gioia in mezzo, diciamo, tra le vie del nostro paese, ecco, degli scorsi naturalistici del nostro paese. Tre comuni insieme, una novità assoluta per l'Oltrepo Mantovano e forse anche per la provincia, perché l'unione fa la forza ed è giusto andare in questa direzione anche quando si organizzano momenti come questo. Sì, in effetti è la prima volta che si organizza una manifestazione insieme per questi tre comuni, Poggio Rusco, San Giovanni e Villa Poma. Si tratta proprio di un'occasione importante, un'occasione diciamo speciale. Finora le manifestazioni erano state organizzate nei singoli comuni, con ovviamente risultati più o meno incoraggianti a secondo del numero di partecipanti. In questa occasione invece la manifestazione ricopre tutti e tre i territori, ricade su tutti e tre i territori e come dicevi giustamente te, la cosa da sottolineare è proprio di una visione nuova in chiave futura. Come sapete entro il 31-12 di quest'anno le gestioni associate per i comuni inferiori a 5.000 abitanti devono essere attivate per tutte le funzioni associate, per tutte le funzioni principali dei rispettivi comuni. Quindi di conseguenza questo è un primo esperimento, un primo passo per vedere e per capire che si può fare assieme, si possono gestire manifestazioni, servizi e quant'altro tutti insieme, come se fossimo un unico territorio e l'Oltrepo ha bisogno di questo.